Da oltre due anni l'intero nucleo familiare da tempo residente in Casentino percepiva il reddito di cittadinanza pur vivendo nel lusso, a smascherare i furbetti ancora una volta la Guardia di Finanza di Arezzo. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è infatti emerso che il capofamiglia svolgeva una fiorente attività imprenditoriale di raccolta rifiuti anche ferrosi ma completamente in nero e senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti fiscali hanno poi consentito di ricostruire redditi sottratti a tassazione a partire dal 2016 in poi per circa 120.000 euro, nonché di avviare in stretta sinergia e scambio informativo con l'Inps le procedure di revoca e recupero delle somme indebitamente percepite pari ad oltre 12.000 euro a titolo di reddito di cittadinanza. L'attività illecita aveva consentito all'imprenditore, stando a quanto rilevato dalla finanza, di mantenere un buon tenore di vita, acquistare un'auto di grossa cilindata, sostenere gli studi universitari dei propri figli con alloggio fuori provincia e di acquistare una casa nel centro di Bibiena pur beneficiando dell'assegnazione di una casa popolare. Nelle dichiarazioni sostitutive presentate per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, invece, la moglie dell'imprenditore aveva dichiarato che il nucleo familiare era privo di reddito e patrimonio immobiliare ed è per questo che entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazione del decreto legge istitutivo del reddito di cittadinanza che sanziona tale comportamento con la reclusione da due a sei anni. Ma i guai per l'imprenditore non sono finiti qui. È stato infatti anche denunciato alla procura di Arezzo per violazione del codice dell'ambiente in quanto sprovvisto delle autorizzazioni per l'illecita attività organizzata di raccolta di rifiuti.